Le fonti che dicono che Cleopatra era bella sono solo due. Le fonti che dicono quanto era bella e pazia sono dodici. Poi, chiaro che la maggior parte dice che per forza era bella perché era del diavolo, era di Lucifero, anche Lucifero era bello. Però in realtà sono queste. Quindi questa bellezza, questa intelligenza, questo vigore, perché lei in fondo muore perché non vuole convertirsi. Tutto qui, il problema è questo. Cioè, non avesse soltanto accettato di piegare la testa, avrebbe vissuto tranquillamente come i suoi allievi. Da un lato è pazia, affascinante e bellissima matematica e filosofa del V secolo d.C., assassinata dall'intolleranza religiosa. Dall'altro a Spasia, la donna che per vent'anni fu la compagna e consigliera del grande statista atenese Pericle, è dedicato a queste due figure femminili la nuova rassegna teatrale Donne dell'Antichità nell'Anfiteatro Romano di Arezzo, con visite guidate, incontri e presentazioni. Due donne dell'Antichità che si ritrovano qui nel nostro anfiteatro romano, finalmente, come dire, dedicato anche ad attività culturali che gli sono proprie, con un allestimento anche molto minimale, rispettoso del luogo, che darà luce invece agli attori e alle storie che verranno raccontate in queste serate. La rassegna si inaugurerà il prossimo 29 giugno alle 21.30 con lo spettacolo I Pazzia muore male. Abbiamo scoperto una figura che per a lungo è stata ignorata nella storia e che è una figura affascinante e soprattutto all'interno di un thriller, di un giallo, di quello che da un punto di vista poliziesco si definirebbe un cold case, per cui è stata uccisa, era una donna bellissima, è stata barbaramente uccisa dall'intolleranza, in un ideale che ella aveva di multiculturalità, di integrazione, eccetera, fu uccisa dall'intolleranza e cancellata totalmente. E pensate che ricompare nella nostra storia sotto un altro nome di cui non ci eravamo mai accorti. Finalmente questa storia è stata recuperata, la drammatizziamo. Secondo appuntamento, il 5 e il 6 luglio, sempre alle 21.30, con l'adattamento teatrale del romanzo Aspasia. Lei guardava spesso il mare. Un personaggio che ci ha incuriosito molto e che sarà messo in scena qui all'anfiteatro con la partecipazione di un folto stuolo di attrici, sono 21 donne in scena e 6 uomini, perché il tentativo è stato quello di creare la coralità che era tipica anche del teatro greco.